Avventure fantastiche tra mille azioni acrobatiche. Sono il vostro amico Kumetsu, questo è Animemanga.it in pillole e oggi vi parliamo della Ultimate Edition di Dragon Ball. Le avventure di Goku e Bulma e poi di Yamcha, il maestro Muten, Piccolo e ancora Gohan, Vegeta e tutti gli altri non hanno certo bisogno di presentazioni. Ebbene, lo shonen per eccellenza di Akira Toriyama è tornato nella sua edizione definitiva, la lussuosissima Kanzeban in 34 volumi. Questa edizione pubblicata in patria nel 2002 venne ricalcata dalla Perfect Edition italiana pubblicata tra il 2006 e il 2008, che tuttavia, pur mantenendo le pagine a colori, non era stata riadattata, presentava diverse censure e perdeva la quarta di copertina, presentando la stessa grafica sul front e sul retro, senza contare la rilegatura poco apprezzabile che caratterizzava la Perfect Edition, le cui costine erano destinate a rovinarsi inesorabilmente. Finalmente però Star Comics ha deciso di ripresentarci l'edizione definitiva di Dragon Ball, in grande formato 15x21, sovraccoperta con protagonisti lucidi e in rilievo, così come le scritte sulle costine che, affiancate, formeranno un'unica grande immagine. Poi ancora copertine cartonate, rilegatura a brossura cucita, pagine eccellenti su carta quasi fotografica che esalta sia il bianco e nero, sia le pagine a colori, siano esse full color o in quadricromia. Infine, la stupenda galleria dei frontespizi dei capitoli chiude un volume, la cui unica pecca, a mio avviso, è la perdita delle copertine della prima edizione, a cui sono particolarmente affezionato. La serie pubblicata con cadenza mensile è proposta da Star Comics alla cifra di 15€, un prezzo decisamente alto per gli appassionati di manga, ma che, considerata la qualità della pubblicazione, è forse anche basso se confrontato con altri prodotti della stessa qualità. Insomma, Dragon Ball Ultimate Edition è un oggetto da collezione imprescindibile per i fan della celeberrima serie del maestro Akira Toriyama e un'ottima occasione per tutti gli appassionati di manga di recuperare una vera e propria pietra miliare di questo genere letterario. Ovviamente per ulteriori approfondimenti trovate in descrizione il link alla recensione completa e altre informazioni utili. A vostra comezzo è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima pillola!